Angelo Grattarola per fare il punto sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione numeri in aumento nella nostra regione ma anche nuove forze. Sì, i numeri sono aumentati perché credo che il periodo Covid sia stato un detonatore importante di tutta una serie di disturbi di tipo psichico, tra i quali appunto anche disturbi del comportamento alimentare e quindi nel 22 erano 1600 le persone prese in carico, sono diventate 1700 e più, quindi vuol dire che c'è stato un aumento di un centinaio di persone ma vi è un sommerso perché questa è una malattia che viene tenuta anche in parte un po' nascosta perché come sempre, come tutti i disturbi psichiatrici, si ha sempre la paura rispetto ai disturbi organici a farle evidenziare. Sono aumentate però anche le forze, sono state assunte quindi 12 persone a vario titolo, medico, psicologi, nutrizionisti. Il nostro compito è quello di generare una rete che vada da un estremo all'altro della regione, avendo come polo centrale il centro dei disturbi alimentari di Pietraligure, ma che si coordina con tutti gli altri ospedali che a vario titolo hanno ambulatori o hanno centri che prendono in carico questi pazienti. Nel centro di Pietra vi è anche la disponibilità di letti per la nutrizione artificiale e un accordo con la terapia intensiva nei casi veramente molto drammatici dell'anoressia, quando lo squilibrio dei parametri è tale da rischiare appunto anche la vita. Quindi il compito è quello di omogenizzare, dare una filiera unica che permetta alle famiglie, alle associazioni, quindi a tutti quelli che a vario titolo partecipano a questo tipo di battaglia, di avere quindi un accompagnamento e questo debba avvenire naturalmente in qualunque punto della Liguria e non soltanto in alcuni centri. Assessore, però le famiglie che vedono i figli stare male, soprattutto sempre con un'età più bassa, chiedono più aiuto e più sostegno. Sappiamo che poi negli scorsi mesi e scorsa settimana c'era stata questa attenzione per il taglio all'inizio del governo. Più di così non si riesce a fare? L'interlocuzione col Ministero è sempre stata viva, noi l'abbiamo sempre segnalata, di fatto insomma il Ministero ha un po' cambiato registro da questo punto di vista. Noi naturalmente avevamo anche dichiarato che anche qualora non ci fossero stati questi fondi avremmo cercato in tutti i modi di garantire lo stesso questo tipo di percorsi. Io ritengo che adesso al di là degli aspetti squisitamente di risorse al fine di mantenere la filiera viva, credo che abbiamo sentito anche dalle testimonianze delle ragazze il punto cruciale è quello di non vergognarsi e di chiedere aiuto e di non nascondere la malattia o farla emergere soltanto quando le condizioni sono tali e talmente gravi da poter essere poi o non curabili o difficilmente curabili.